Siamo alla terza edizione della Festa del Pane a Borgata Costiera. Adesso attualmente si sta lavorando per realizzare murales, per preparare i pani che serviranno per l'allestimento. Ringrazio innanzitutto Francesco Foggia, che ancora una volta per il terzo anno consecutivo ha voluto il supporto dell'Associazione Turistica Proloco e della mia persona per il coordinamento logistico della Festa del Pane. Ringrazio l'UNAC perché l'organizzazione dell'UNAC in collaborazione con la Proloco è l'amministrazione comunale. La Festa del Pane nasce da un'idea di Francesco Foggia con la consulenza storica del professore Danilo Di Maria, video e fotografia di Martin Giglio, testi di Rossana Morello che stanno lavorando per la realizzazione di uno splendido e spettacolare video. Ringrazio anche le donne di Borgata Costiera che ancora una volta ci stanno coadiuvando, ma non soltanto, Rosalba, Roberta, Crocetta. Ringraziamo anche le parrocchie di Santa Maria di Gesù, le parrocchie di San Francesco che ancora una volta hanno preso al balzo l'idea di poter collaborare per la realizzazione di questa meravigliosa festa. La Festa del Pane ha contribuito ad arricchire e far crescere una borgata che dista soltanto 10 km dal centro abitato, ma che negli anni era stata dimenticata. Tra le altre cose, questo luogo, la Via dei Lavatoi, che fino a qualche tempo fa era un luogo degradato, adesso grazie all'intervento di Francesco Foggia, grazie all'amministrazione, è un luogo bellissimo, centrale, che fa parte di Borgata Costiera. Via dei Lavatoi, perché a due passi ci sono gli storici lavatoi con il Pozzo di San Giuseppe, fulcro della Borgata, vicino il Baglio della Sulana, quindi siamo a due passi da due siti importanti, che nel corso del tempo, nel passato, erano luoghi importanti per questa piccola borgata. Grazie alla collaborazione dell'amministrazione, a Francesco Foggia, che ha creduto in questo evento, che ha chiamato Danilo e chiamato me il primo anno, noi ci abbiamo creduto, abbiamo sposato l'idea e siamo ancora qui una volta a lavorare per questo grande evento che si svolgerà nel mese di agosto. 6, 7 e 8 agosto, Borgata Costiera, non soltanto pane devozionale, ma anche degustazioni, tante aziende parteciperanno quest'anno alla realizzazione di questo grande evento. Oltre agli spettacoli, a tutto quello che è all'interno di questo meraviglioso e splendido evento. Qui ci troviamo in uno dei siti di rilevanza storica come la Necropole di Roccazzo, una grande zona archeologica che è stata sempre dimenticata. Dopo decenni, anche grazie alla festa del pane, grazie all'intervento dell'amministrazione comunale del sindaco Nicola Cristaldi, e grazie anche agli operati del comune, è stata bonificata, pulita, dove sicuramente quest'anno questo sito sarà un fior all'occhiello perché si starà realizzando un grande video di grande professionalità dal direttore Martingiglio, con i testi tra l'altro scritti dalla signora Rossana Morallo. Cercheremo di non tralasciare nulla, stiamo cercando di valorizzare la nostra storia, di ridare alla luce la storia della città di Mazzar del Vallo, Costiera si rappropria del Roccazzo. Questa è la sana e buona politica. Tutti parlano, ma noi magari a nostra storia non la sappiamo. Oggi sicuramente daremo un grande significato a realtà mazzarese. In tanti ci invidiano questo posto, un posto pieno di storia, un luogo immerso alla natura, un luogo di pace. Questo è Roccazzo. Sicuramente non sarò io a raccontarvi la storia di questo incantevole luogo, ma ci sarà il consulente storico della manifestazione, il professor Di Maria, che sarà la voce fuoricampo di un magnifico video che si realizzerà e che sicuramente farà conoscere la storia di questo sito a molte persone che ne avranno voglia, ma che sicuramente saranno presenti per la festa del pane a Borgata Costiera. Come vedete la manifestazione del pane non si limita solo ad essere un evento conviviale, ma sia anche il ripristino della nostra storia e della nostra cultura attraverso l'arte, attraverso il pane, ma soprattutto immersi da questa stupenda natura. Grazie a tutti.